Si usava una volta anche a fare un quadretto, per esempio dove si vedeva un cavallo imbizzarrito con il personaggio che stava per essere ucciso, invece non è stato ucciso. Nell'angolino c'era la Madonna addolorata che c'è nella chiesa e praticamente per te l'ho sopravvissuto, per ringraziamento, ha fatto fare un quadretto e c'erano, sembrano un centinaio di questi quadretti, ne sono rimasti purtroppo quattro e sono andati dispersi purtroppo. E adesso questo corridoio ha perso un po' anche questo, il suo aspetto particolare perché era molto buio, era illuminato solo da delle candeline, delle coppette che pendevano dalla parete ed era molto più affascinante di ora perché adesso purtroppo hanno voluto mettere questa illuminazione perché l'Europa è troppo moderna secondo me.